Il mondo interno, quel seme profondo, quel nucleo che ti caratterizza, è un principio che ti caratterizza e caratterizza tutta la tua identità più profonda e caratterizza tutta la tua corporeità. Questo vuol dire che ingrassare sono zavorre mentali, se non cambia l'atteggiamento mentale non potrai mai dimagrire e cambiare l'atteggiamento mentale è molto facile, è difficile per chi si è abituato a lottarci, a viverci insieme, il che significa che il disagio se non lo accogli non andrà via, il che significa che se gli dai una causa sono così perché mia madre non mi ha amato, non è vero, non è mai vero, sono sciocchezze. Al momento della fecondazione, dice Shelem, qualcosa ha fatto te, così come sei, con quel volto lì. C'era il tuo volto al momento della fecondazione? Certo che c'era, non si vedeva ma c'era, certo che c'era, era un'onda di un mare energetico che non si vedeva ma c'era, c'erano le mestruazioni nel momento della fecondazione? C'erano, non si vedevano ma c'erano. Guardate questo è un concetto fondamentale, la domanda è non che cosa le è successo signora, ma che cosa non fa più che la caratterizzava? Chiudete gli occhi, cosa le piaceva? Guarda, ma non lo facciamo, chiudete un attimo, chiudete gli occhi, senza dirlo a nessuno. Immaginate una cosa che vi piaceva, che facevate da impazzire, un gesto, qualche anno fa, scendete una scena in cui voi vi ridevate, facevate qualcosa che vi piaceva da impazzire. Trovato? Alzate la mano se avete trovato, aprite gli occhi. Per fare questa operazione il cervello ha selezionato qualche cosa come centinaia di miliardi, di triliardi, di biliardi di immagini, altro che andare su Marte. Adesso fatti questa domanda, ma quella cosa che vi piaceva così tanto la sto facendo ancora? Se non la stai facendo ti ammali o sei a disagio, è chiaro il concetto? È chiaro il concetto? Perché dentro la tua immagine c'è un'immagine più profonda, la quale sa cosa vuole. Signora che cosa hai immaginato, non cosa le è successo. Che immagine ha perduto, non cosa le è successo. Tutti quelli che verranno da voi verranno per correggere, correggere relazioni che non funzionano, correggere disturbi che li inquietano, correggere stili di vita. Ma la prima cosa che dobbiamo imparare è non correggere. Non dobbiamo migliorare, dobbiamo percepire una cosa differente. La percezione determina l'increzione di sostanze che altrimenti non vengono immesse nel sangue. Endorfine, serotonina, dopamina, eccetera, eccetera, eccetera. Interessante, no? Quindi olismo vuol dire che in questo momento c'è qualcosa fuori dal tempo. Quando qualcuno introduce la parola olismo, noi ce ne occupiamo da tantissimi anni. Non so se c'è qualcosa che abbiamo studiato più dell'olismo, io e Vittorio. Voi Rizza l'identificate in noi, ma Rizza è un mondo intero. Rizza è fatta da medici, psicologi, psichiatri, psichialisti, psicoterapeuti, naturopati. Sono dei giornali che scrivono, io adesso stiamo pensando di fare un giornale che si chiamerà Il Naturopata, proprio per chiarire bene la differenza, no? Per chiarire bene che cos'è Il Naturopata. Sono, per esempio, delle scuole che hanno sette persone e si mettono a fare l'omeopatia. Il Naturopata non può fare l'omeopata, perché l'omeopatia è un atto medico, non lo può fare, non lo deve fare, corre dei rischi e infatti poi si vede dei rischi, no? E così altre tecniche, no? Bisogna avere ben chiaro, ben chiaro di che cosa si parla. Perché se in me esistono dei saperi innati e io non li uso, mi ammalo. E quando gli alchimisti vogliono rappresentare il processo dell'olismo, pronunciano una parola, guarda l'uovo, uovo. Guarda il corpo dell'uomo, dov'è l'uovo? Qua, il cranio. L'uovo fecondato produce attraverso il calore inesorabilmente il pulcino. Il che vuol dire che tu sei qui per produrre inesorabilmente la donna che sei. Se non lo fai sei un aborto della vita. Attenzione bene. Non devi diventare migliore, non più brava. Se sei l'Aquila devi fare l'Aquila, se sei Colombo devi fare il Colombo. Quindi, quindi, come diceva Jung, è un principio di unicità. Per star bene, ricordati sempre che quando qualcuno sta male è perché ha perso la sua unicità e continua a perderla, continua a raccontarla, continua a parlarne. Chi si lamenta non vuol stare meglio, vuol lamentarsi, è una cosa differente. Quindi non cadere nella trappola del lamento. La prima cosa da fare è appropriarsi del sintomo. Io ho l'ansia, l'ansia appartiene a me, io e l'ansia cedendo all'ansia e poi ci sono tante altre cose da fare come la più importante di tutto è trasformarla in immagine. Ma tocca a me, non tocca a un altro. Tocca a me. Tocca solo a me. Quindi, al di fuori del pensiero, l'olismo è una presenza costante. Noi siamo, noi siamo una danza intorno a sostanze e immagini. Questo è l'olismo. C'è un'immagine che mi caratterizza. Le donne che sono molto più brave degli uomini a stare con le immagini, se si mettono un vestito sbagliato, tornano indietro e si cambiano. È vero o no? Sono preparate. Perché? Perché nell'abito c'è l'immagine interna proiettata sull'esterno. Gli uomini no, sono più presi da ciò che devono fare. Quanto abbiamo aspettato le donne quando si truccano, no? Ma la donna quando si sta truccando sta entrando in un'altra dimensione, sta cercando il volto. Chris diceva che ci si guarda allo specchio, diceva una cosa pazzesca, non per vanità, ma perché guardandomi allo specchio sto cercando in realtà il volto che c'era prima che ci fossi. Il volto che c'è al momento della fecondazione. Questo volto che cambia, che ogni tanto vedo invecchiare, questo volto è tutto il mio riferimento, è tutto ciò che c'è. Io sono prima di tutto, più di tutto, il mio volto. E da qui capite l'idiozia del lifting, la malattia del lifting. Olismo vuol dire che il corpo è fatto per invecchiare, non per ringiovanire, per invecchiare. Bisogna diventare dei giovani vecchi, non dei giovani. perché nelle religioni molto scadenti c'è la santità, nei saperi profondi c'è la saggezza, la santità può esserci anche da giovane, la saggezza è soltanto frutto della maturità. L'albero prima di fare i frutti deve fare i fiori, il fiore si trasforma in frutto. E se quando tu hai 70 anni stai raccogliendo i frutti, ma nella tua mente c'è l'idea che devi restare a 30 o a 40, non raccogli i frutti. E se ti rifai il vivo, sai cosa succede? Che perdi il volto e poi dovrei fare un altro lifting, un altro lifting ancora, sempre alla ricerca di quel volto che hai perduto. Ti sei creato un volto che non c'è, che non è il tuo e perdi il volto che c'era dentro di te. Quel volto se c'era all'inizio era la tua guida. La saggezza è già presente al momento della fecondazione, il lato antico è presente al momento della fecondazione. Quando nella vita hai preso decisioni importanti, decisive, non eri tu, era la saggezza antica che c'era dentro di te, era il vecchio che c'era dentro di te. A 20, a 30, a 40 anni perdi il vecchio, hai perso tutto. I vecchi sanno custodire i segreti, solo i vecchi. Che ci sono i bambini, guarda che ci sono i bambini, silenzio. Voi andate di là a giocare, vi ricordate? Non sono cose da bambini, i bambini più curiosi ancora. Oggi c'è qualche cretino, veramente imbecille, che dice che ai bambini bisogna dire tutto, tutto che cosa? La verità a 4 anni non è la verità a 30 anni. Parlavo l'altro giorno di un bambino che la mamma si è suicidata, adesso uscirà il film di Bellocchio, Fai bei sogni, che è preso dal libro di Gramellini, dove tutta la partita è che la mamma si suicida, si scoprirà la fine del film, la mamma si suicida e lui passa tutta la vita alla ricerca di sapere come è morta sua madre e nessuno glielo dice, tutti gli negano la verità. Mi ha intervistato una giornalista a lungo l'altro giorno, mi ha fatto molto bene a non dire la verità, molto bene, perché i bambini non devono sapere la verità, la verità è degli adulti. E la verità è mutabile come il vento, quello che verrà adesso non è vero a 5 anni, non è vero a 30, non è vero a 50, bisogna imparare a osservare, perché i bambini dicono le bugie? Dottore, il mio bambino sa quante bugie dice? Avete bambini? Dice le bugie? E se non dice le bugie devi preoccuparti, perché dicendo le bugie lui danza sul dio del cambiamento, del mutamento che è Hermes. I greci avevano un dio con le ali ai piedi e le ali alle tempie, a indicare che c'è un lato in alto e un lato in basso, che c'è qualcosa di noi che vola verso l'alto e qualcosa che va verso il basso, ed era un dio che diceva bugie a tutto spiano, mentiva a tutto spiano, era il dio dei bambini. I bambini mentono perché mentire vuol dire cambiare la realtà, è il modo migliore che hanno per crescere. Quindi andare a sgrizzare i bambini quando mentono lo dobbiamo farlo perché è il nostro compito di genitori, ma dobbiamo sapere che stanno evolvendo, come quando un bambino è disattento. I bambini quando sono disattenti risolvono i problemi, sei sempre tu che stai lì a pensare 40 anni che lui ti ha trattato male 40 anni fa. Dottore mi ha detto 30 anni fa, tu non vali niente, ma ti ha detto 30 anni fa. Quindi olismo significa la coesistenza di piani che in questa zona antica del cervello che Paracelso amava così tanto, coesistono. e ciò che li uccide è la nostra mentalità, la nostra identità, quello che hai detto tu molto prima, il nesso di causalità, la spiegazione. Non c'è niente da spiegare, le cose sono così, non c'è niente da spiegare. C'è qualcosa che sta accadendo. La parola accadere è una parola molto importante. Dobbiamo immaginare che gli eventi che succedono, gli abbandoni, le tristezze, i lutti, accadono, nel senso che cadono dentro di noi e attivano stati energetici. Una delle più grandi psicanaliste che siano mai esistite, Maria Luisa von Franz, che ha scritto libri non memorabili di più, diceva che non iniziava a scrivere se prima non le veneva un certo periodo di tristezza. La tristezza va cercata, è un'energia, così ragionava Paracelso. La nostra cultura è tutta del sorriso. Gli antichi, quando facevano dei tratti, non si mettevano mica in pausa per ridere, rappresentavano le loro caratteristiche del volto, rispettavano il loro volto. La fisiognomia, la fisiognomica, la differenza che caratterizza ciascuno di noi. Ecco, tutto questo è il perno del nostro modo di vedere le cose e dà risultati. Quindi una mente silenziosa, che non dà consigli, che percepisce. Prova a chiederti di un cliente che viene da te. Che albero è? Inizialmente non ti viene in mente niente. Che albero è? Ma mi assomiglia più una quercia o una magnolia? Che albero è? Io che albero sono? Guardate le piante. Non c'è una pianta che cresce vicino all'altra se non c'è un'affinità. Non c'è. Chi è un naturopata? È come un contadino. Vede nella persona l'albero che verrà. Come se tu dai a un contadino il seme del girasole. Se tu non l'hai visto non sai che verrà fuori quella pianta. Lui che la conosce dice che il girasole. Non è che ha fatto no? È semplice. L'anima è semplice. Siamo noi che siamo complicati. Che pianta è? Ti sei mai chiesto che pianta è? Guarda le piante. Io insisto molto su Salute Naturale perché tutti pensano che Rizza sia il giornale più importante del gruppo. È vero, è il giornale storico. Ma di tutti i giornali che facciamo quello che è il giornale più venduto è Salute Naturale. E su Salute Naturale ogni mese noi cerchiamo di parlare di quelle che sono le caratteristiche del naturopata. Vuoi fare una cosa per te stesso? Vuoi fare qualcosa di importante per te stesso? Allora vai in un'erboristeria giusta e annusa. Vai nel bosco e annusa. Annusa. Ulismo vuol dire che il profumo è della stessa natura delle immagini antiche. Gli animali non gli animali che sono diventati adesso che sono tutti dei pelucci in casa. infatti ingrassano come noi. Pensate che in natura non c'è un animale che ingrassa. Non c'è. Pazzesco. Perché cosa vuol dire? Questo lo studieremo in questi anni che nel cervello il centro del piacere e il centro della fame che sono collegati la fame è tutto il piacere che non ti dai. La fame è l'eccesso di pensieri che ingrassa pensa sempre molto. Zavora. Zavora. Zavora e mentale. Così nella mente e così nel corpo. Non si scappa. Chi ingrassa guarda il viso e non tutto il corpo. Chi ingrassa troppi ricordi. Chi ingrassa cerca più il passato che il futuro. Chi ingrassa non dice mai di no. Non dice mai di no. Non si incazza mai. O se si incazza si incazza per poco. E si chiude sempre di più in un mondo solo suo dove si sente se stesso solo quando mangia. Questo bisogna saperlo. È attaccato a un'idea di sé. Infatti il miglior farmaco per dimagrire sapete cos'è? L'innamoramento. Bene, ti vedo preparato. Perché l'innamoramento? Non perché l'innamoramento perché nell'innamoramento tu cambi l'identità. Nell'innamoramento tu entri in quest'area misteriosa dove c'è il misterioso salto dalla mente al corpo dove ormoni energie coesistono.